Un caro saluto da Edi Pellegrino, benvenuto nel mio canale, questo canale si chiama Cibo per il risveglio della coscienza, un percorso strutturato impostato sul cibo a 360 gradi, cibo materiale ma anche cibo spirituale, un tipo di nutrimento che va a nutrire sia la parte fisica ma anche la parte quella più sottile di noi. Io qui ho messo i tre argomenti principali di questo canale, meditazione, alimentazione e lavoro su di sé. Il lavoro su di sé è estremamente importante perché è quel lavoro che è fatto costantemente ci porta veramente e realmente alla conoscenza di sé. Io non sono assolutamente un fanatico di niente, per me tu puoi essere un vegano, un vegetariano, puoi mangiare carne, puoi essere quello che vuoi, a me non mi interessa niente, permetto agli altri di essere come sono in modo che gli altri possono darmi l'opportunità di essere quello che sono io. Ecco, questa è la visione principale di questo canale. Il mio messaggio è rivolto a tutti quanti, tutti, tutti quanti. Io non sono un guru, non sono un illuminato, sono soltanto una persona che sta lavorando e lo sta facendo da 13 anni. Il cibo, che è l'argomento portante di questo canale, è un argomento che a me è molto caro, sono un cuoco pasticcere da più di 30 anni, porterò nei video la mia esperienza, la mia sapienza a livello culinario, ma porterò nei video anche la mia esperienza a livello spirituale. Io ti invito a iscriverti al canale e ti invito anche a fare una giratina tra i video che io ho già caricato. Ci vediamo alla prossima. Grazie mille per la tua preziosissima attenzione.